ok questo è questa è la torcia e adesso procederò con l'unboxing farò vedere un po quali sono le caratteristiche arriva con delle istruzioni in inglese in cui il tasto in fondo e quello di accensione e poi il tasto che è presente qui sopra è quello che dà l'intensità della luce eccolo qua io l'ho già aperto e devo inserire solo la batteria perché questo si svita e dice anche la posizione della batteria che va inserita infatti all'interno della confezione è presente una batteria di riserva con un caricatore io ho messo già a caricare questa è una batteria da 2600 mili ampere con questo caricatore lui dice che quasi al massimo e farò vedere quanta è la potenza di questa di questa torcia il caricatore ha al suo interno una molla più e meno così dove esce il display abbiamo visto prima con un cavetto incluso tuttavia il caricatore l'ho utilizzato io il caricatore non è presente dopodiché il tappo si avvita e a questo punto abbiamo la nostra torcia che direi pesa un 300 grammi pesa un po devo dire la verità adesso farò vedere con questo tasto questo di sotto qui si accende e questo invece regola la luminosità vi faccio vedere a luce spenta come vedete non si vede una ciola ecco fatto vedete la stanza è completamente illuminata che faccio vedere con sul soffitto così è chiaro così è poco 2 3 4 5 e anche come stavo facendo vedere prima vedi quando è forte vedete molto forte molto forte e io la consiglio sinceramente che posso dire in effetti vale i 40 euro spesi se la recensione vi piace lasciate un commento un qualcosa e vi ringrazio consigliato come una torcia molto affidabile